Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Sarà l'autopsia fare piena chiarezza sulle modalità dell'omicidio costato la vita alla 34enne Victoria Osage. La giovane donna uccisa santo sera dal marito Moses Osage, 42enne, a Concordia Sagittaria, aveva tentato di fuggire dall'abitazione di via Silvio Appellico, 18, dopo aver ricevuto i primi fendenti. Secondo gli investigatori, la giovane, mamma di tre bambini di 3, 5 e 10 anni, avrebbe potuto sopravvivere se l'uomo non l'avesse riportata in casa dopo la fuga in strada per finirla con altre coltellate. Diverso il racconto del compagno che ha sostenuto durante l'interrogatorio di averla colpita nella prima aggressione tra le mura di casa. Sarà l'esame autoptico a fare piena chiarezza sulle modalità dell'omicidio. Nel weekend il medico legale Antonello Cirnelli, chiamato a far parte della squadra investigativa, dovrà fugare ogni dubbio. Intanto il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, ha smentito le richieste di sostegno che stanno girando in questi giorni sui social per i bambini coinvolti nel tragico evento. Richieste che invitano a donare abiti intimo o scarpe per bambini di 3, 5 e 10 anni di età, spiega il sindaco. I servizi sociali del Comune, che stanno seguendo da vicino la situazione, confermano che non c'è alcuna necessità di questo tipo di supporto. L'amministrazione comunale, nel ringraziare sentitamente e indistintamente tutti coloro che hanno offerto un proprio sostegno, informa e avverte, prima di effettuare eventuali donazioni, di consultare i siti ufficiali del Comune o delle associazioni riconosciute. Calo dei contagi e da oggi ha chiuso la sezione Covid-4 all'ospedale di Jesolo. Sospesa per ora la somministrazione dei vaccini a causa delle ridotte forniture del Pfizer. La pandemia da Covid-19 prosegue quindi con una contrazione dei contagi praticamente dimezzati rispetto alla scorsa settimana, ma allo stesso tempo anche il blocco delle vaccinazioni a causa del taglio delle forniture. Ne consegue che abbiamo dovuto riverservare le dosi attualmente disponibili al personale che deve effettuare il richiamo o la seconda dose. Si inizia quindi all'ospedale di Jesolo con i 44 sanitari che avevano effettuato il primo vaccino. Il 27 dicembre ha annunciato il commissario dell'azienda sanitaria della ULS-4 del Veneto orientale, Carlo Bramezza, nel punto stampa. Ad oggi la situazione è in netto miglioramento, spiega Bramezza. Rileviamo un sensibile alleggerimento dei contagi e con essi si stanno riducendo il numero generale di tamponi effettuati e il numero dei ricoveri ospedalieri al Covid-Hospital sia in area malattie infettive che in terapia intensiva. Su questo fronte annuncio che mercoledì chiude dunque la sezione Covid-4 all'ospedale di Jesolo e il personale impegnato potrà rientrare nella pediatria di Portogruaro dove erano stati sospesi i ricoveri. La direzione generale ha chiesto alla regione anche la possibilità di ridurre i posti letto di terapia intensiva all'ospedale di Jesolo da 16 a 12 per far rientrare il personale medico e infermieristico negli ospedali di San Dona di Piave e di Portogruaro. Con la contrazione dei contagi da martedì sono infatti ripresi con più forza gli interventi chirurgici programmati negli ospedali di San Dona e di Portogruaro. Altro dato rilevante è la percentuale di mortalità per Covid che nell'azienda sanitaria è al 22%, percentuale tra le più basse del Veneto. Questo significa che in generale la pandemia è stata ben gestita, ha concluso Bramezza. Ci auguriamo che questa curva al ribasso persista. Nel frattempo ringrazio il personale dell'US4 per il lavoro svolto, così come è stato importante il lavoro di rete svolto sul territorio, dai medici di famiglia, pediatri, farmacisti e anche dagli abbergatori nel fornire gli alloggi al personale e a persone positive. Nel 2020 dimezzate le multe, ma aumentano quelle per la mancata copertura assicurativa dei veicoli. La ricorrenza di San Sebastiano, patrolo della Polizia Locale, in programma proprio per quest'oggi, è da sempre l'occasione per fare il bilancio delle attività svolte l'anno prima anche dal corpo della Polizia Locale del Porto Ruarese. I dati del 2020 sono da leggere tenendo conto dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid, che ha visto tutte le forze di Polizia rimodulare i servizi per potenziare i controlli derivati dagli obblighi previsti dai vari DPCM e dalle ordinanze regionali. Il Comando di Polizia Locale del Porto Ruarese, che vede associati i comuni di Porto Gruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro, Cinto Cao Maggiore e Teglio Veneto, serve un territorio di 220 km2, con una popolazione di 43.000 abitanti. Nell'anno che si è concluso da poco, sono stati rilevati 191 incidenti stradali, meno 119 rispetto al 2019. Anche le sanzioni al codice della strada sono diminuite, dalle 8.000 del 2019 alle 4.660. Una sola voce ha registrato un incremento, le mancate coperture assicurative, che se nel 2019 erano state 96, nel 2020 ammontano a 144, più 48%. Una contrazione pari a 505 verbali in meno si è registrata anche per il mancato rispetto dei limiti di velocità, da 2.190 a 1.557. Le patenti ritirate sono state 14, meno 16, e le carte di circolazione 9, vale dire meno 35. A fronte di queste diminuzioni, dovute anche al lockdown, che ha registrato una flessione del traffico veicolare, gli operatori sono stati impegnati in altri servizi collegati all'emergenza, le persone alle quali è stata controllata l'autocertificazione per gli spostamenti sono state 1.525, 300 i controlli effettuati nei pubblici esercizi per verificarne la chiusura, il rispetto dei distanziamenti, l'obbligo del servizio al tavolo e via dicendo. Queste verifiche sono state svolte anche in via preventiva, cercando di fornire delucidazioni ai gestori dei locali sull'applicazione delle norme. Un impegno particolare, quello profuso per il controllo dei mercati settimanali, con un aumento sostanziale degli operatori, ed è stato un anno particolarmente difficile, sottolinea il comandante Thomas Poles, che ha visto il personale di polizia locale impiegato soprattutto per i controlli relativi alla pandemia senza tralasciare gli altri compiti di istituto. Lo sforzo è stato reso meno gravoso grazie alla collaborazione dei cittadini, che si sono dimostrati rispettosi delle regole e dei divieti imposti dal legislatore. Voglio ringraziare la nostra polizia locale, ha detto il sindaco Florio Favuro, non solo per l'impegno e la professionalità profuso nell'espletamento delle loro attività, ma anche per la modalità con cui svolgono il proprio lavoro, puntando soprattutto alla cura dell'aspetto preventivo e di informazione. Siamo con Riccardo Florian, consigliere con Fappi Venezia, con delega logistica e trasporti. Qual è la situazione delle PMI del territorio, soprattutto per quanto riguarda il settore di riferimento alle sue deleghe? Sempre di più per le PMI del nostro territorio la logistica e i trasporti sono una leva fondamentale per la crescita. Mai come in questo periodo abbiamo visto come l'e-commerce, come la logistica interna delle aziende sia veramente fondamentale. Per cui questo è il momento sicuramente di investire su tutti i processi di logistica interni alle aziende. Quali sono gli strumenti e le opportunità che come associazione Confapi ha messo in campo in questi mesi? Partendo dalle difficoltà delle nostre aziende nel crescere nel settore della logistica, abbiamo riunito un pool di aziende che sono specializzate nel strutturare progetti di logistica all'interno delle PMI. Quindi siamo in grado di accompagnare la crescita delle nostre aziende sotto il profilo della logistica. La logistica 4.0 in questo momento è lo strumento che ci permette di aiutare maggiormente le aziende nella crescita di questo settore. Per quanto riguarda invece le aziende di trasporto che sono associate alla P-Industria, stiamo portando avanti dei progetti veramente importanti. Finalmente siamo riusciti a fare un progetto di formazione dedicato alla formazione di autisti. Sappiamo tutti che per le aziende di trasporti c'è una grossa difficoltà nel reperire autisti formati, autisti che guidino i camion, soprattutto i camion quelli con patente C, patente E. In questo momento siamo riusciti, grazie alla Regione, a fare un progetto per la formazione di otto figure, otto persone che erano disoccupate e adesso stanno partecipando a questo corso. È già partita la prima fase di formazione, una formazione che doveva essere in aula, ma chiaramente adesso è online. e a gennaio è partita invece anche la formazione per quanto concerne la patente di guida. Quindi riusciamo a dare la patente di guida C e anche il CQC agli autisti e di partecipare a questo corso di formazione che abbiamo specificatamente creato per la mansione di autista. Inoltre riusciremo a portare a termine un mese di tirocinio presso le aziende, aziende dedicate nel territorio, specifiche nel territorio di Treviso ed è la prima volta che riusciamo a fare un tirocinio di personale viaggiante personale che poi farà l'autista. Quindi è per noi molto molto importante questo progetto perché pensiamo che sia il primo di una lunga serie. Dalla regione 1,2 milioni di euro per il ripascimento a Bibione. La spiaggia è già stata pulita dopo il maltempo e le abbondanti piogge che avevano trascinato sulla renile tonnellate di legname e ramaglie per un costo di oltre 35 mila euro. Il presidente della Bibione Spiaggia, Gianfranco Prataviera, sta seguendo tutte le operazioni sempre in contatto con il sindaco Pasqualino Codognotto. Un importante intervento alquanto impellente è il ripascimento, come sottolineato da Prataviera, visto che le mareggiate da inizio dicembre hanno eroso 20.000 metri cubi di spiagge. La ragione, attraverso un bando, ha messo a disposizione solo per Bibione 1,2 milioni per il ripascimento che potrebbe iniziare il prossimo mese. A poche settimane, dalla violentissima mareggiata che ha colpito tutto il litorale adriatico, ha spiegato il sindaco Pasqualino Codognotto, negli ultimi giorni di dicembre un vento di libeccio sostenutissimo e un'onda alta persistente hanno devastato ulteriormente le nostre spiagge. Oggi, dal tagliamento al Po, non c'è una spiaggia che non abbia subito drammaticamente l'erosione. In questo periodo stiamo pulendo le spiagge dalle tonnellate di materiale depositato dopo le piene dei fiumi e stiamo facendo fronte ad una situazione insostenibile. Dopo aver appreso che lo Stato ci ha negato la richiesta di una parte di sgravio del carone demaniale, richiesta sia come sindaci della costa veneta che sindacato di categoria, siamo esterefatti. Questa è stata una mazzata che sta mettendo in ginocchio i nostri imprenditori, ha ribadito Codognotto. C'è bisogno di studiare soluzioni che abbiano nel tempo una durata, perché così arriviamo in ginocchio alla prossima stagione. Lo Stato non ha compreso che nel 2020 c'è stata una minore reddittività e minore occupazione per i lavoratori delle spiagge. C'è il bisogno di essere ristorati se vogliamo mantenere l'occupazione e vivo il nostro turismo balneare. La nostra industria più importante del litorale è Veneto. Spero ci sia una considerazione rispetto a quanto finora è stato detto e scritto. Abbiamo bisogno di aiuti, di studi tecnici che tienano una risposta definitiva alla erosione costiera. In questo modo non riusciremo ad andare avanti, prevediamo una forte crisi. Bisogna tutelare il nostro capitale, quello dell'industria turistica. Servono basi solide e concrete per ripartire tutti assieme. La spiaggia è un punto di partenza. Non versare la tassa di soggiorno a Roma o a Rimini non è più reato. Ne sa qualcosa il suocero del Premier Conte che tra il 2014 e il 2018 si era trattenuto 2 milioni. E il fatto non è più previsto dalla legge come reato grazie a una norma che è stata inserita dallo stesso governo Conte nel decreto rilancio. A Caorle invece non versare la tassa è ancora reato. Lo ha stabilito il GUP Rodolfo Puccine che ha condannato Lara Marin, 52 anni e Paola Marin, 59 a un anno e cinque mesi pena sospesa. Giudicate con rito abbreviato le due legali rappresentanti della Fenice SNC che gestisce l'hotel Rex di Caorle come agenti contabili incaricati di pubblico servizio dovevano versare entro 60 giorni la tassa di soggiorno al comune. Tra aprile e settembre 2015 hanno trattenuto 2.410 euro e tra maggio e settembre 2016 altri 2.280. Il problema è identico al caso del sociolo di Conte protesta all'avvocato Luca Donadonna. Il decreto 34-2020 è diventato legge il 20 luglio. Il problema si pone per chi ha commesso il reato prima. Parte della Cassazione ritiene che il peculato sia abrogato. Farò appello per ottenere lo stesso pronunciamento dei giudici di Roma e di Rimini. Al termine di Mechanic System Puntini ha terminato 27-26 a fianco di me una delle protagoniste di questo match l'ha sottolineato anche nelle parole Giovanni Nasta Arasai Duran è riuscita a prendere in braccio le sue compagne e portare questa importante vittoria fondamentale perché siete arrivati da questo inizio 2021 con incontri mano a mano sempre più impegnativi fino alla prova finale del Puntini che vi ha messo seriamente difficoltà e poi la marcatura diretta su di te mette sempre grossi pensieri Sì penso che questo mese dopo la pausa che abbiamo avuto per il virus è stato tanto impegnativo ci aspettavamo questa partita e sapevamo che sarebbe stata dura dopo giocare mercoledì sabato siamo entrati giusti in partita ha un po' di pesantezza le gambe stanchezza penso e non siamo partiti bene come dovremmo partire poi la marcatura sempre che mi fanno uomo ci mette sempre in difficoltà ma siamo riusciti a giocare tranquille con il cuore con la testa e così siamo entrati in secondo tempo con un po' più di grinta e più concentrati e abbiamo ottenuto la vittoria ormai una costante quella della marcatura diretta su di te l'abbiamo vista proprio a partire dalla prima partita di questo 2021 sarà una costante anche per gli incontri a venire ti mette più grinta ti mette più carica di fronte a questa sfida che ti trovi di fronte ogni volta sì a volte mi mette più carica e a volte un po' a disagio perché voglio giocare un po' più libera ma tutte le squadre lo sanno che sono forti è normale pure io se avesse una squadra lo farei ma niente dobbiamo prepararci più con questa con questa cosa perché tutte le squadre lo faranno penso e niente si è andata bene quello che conta e niente preparare le altre partite che ci seguono e che saranno anche dure soltanto queste no Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna i nostri servizi i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci fermiamo con questa edizione torneremo con le altre nel corso della giornata rimanete con noi alla prossima